Dopo un lungo periodo di fermo, le vongolare torneranno in mare con ogni probabilità domani, meteo permettendo. La pesca del mollusco era stata sospesa dal 15 al 31 ottobre per il fermo tecnico obbligatorio a cui si aggiungono il fermo volontario deciso dal cogevo Abruzzo. Una buona notizia per i consumatori e i ristoratori che potranno contare su un prodotto certificato e di qualità, grazie alla costante attenzione dedicata alla salute del mare e delle vongole. Domani torneremo in mare, dovevamo andare stamattina ma il maltempo ci ha impedito. Domattina torneremo e porteremo le nostre famose vongole sui tavoli di tutta Italia per le feste natalizie. Per il periodo natalizio il cogevo ha ottenuto una deroga per consentire la pesca in alcune giornate festive. Le date approvate per il 2024 includono il 21, 22, 26, 28 e 29 dicembre. Mentre per il 2025 sono già previste uscite straordinarie il 4 gennaio, il 21 e 25 aprile e il 2 giugno. Sì, addirittura quest'anno ci hanno dato pure il giorno dopo Natale a Santo Stefano per garantire prodotto fresco sulle tavole anche del C1 di Capodanno. E questo è importante perché come è risaputo noi siamo andati pure al Salone di Venezia, abbiamo portato le nostre vongole, la nostra OP sono state riconosciute di qualità al Salone di Venezia da una serie di piatti che abbiamo fatto, polenta di vongole e sono risultate veramente ottime le vongole giugliesi e abruzzesi. La decisione del cogevo di prolungare il fermo volontario anche a novembre ha avuto come obiettivo prioritario la tutela della qualità del prodotto. Durante questo periodo sono stati effettuati controlli settimanali congiunti tra i marittimi e gli operatori dell'Asda Terramana che hanno verificato lo stato di salute delle vongole e del mare. Siamo andati a monitorare con il motopesca Valentino, comandante Valentino Cappelletti, settimanalmente con l'ausilio dei tecnici dell'Asda di Terramo il prodotto ittico in mare e di fondale. Praticamente tutti i cambiamenti sono risultati idoni e abbiamo un prodotto buono e di qualità. Le vongole sono dunque pronte a riprendere il mare portando sulle tavole il sapore autentico dell'adriatico, simbolo di tradizione e qualità per il periodo natalizio. Bisogna consumare il prodotto ittico nostro, nostro, locale e adriatico. Questo è importante, tanto la qualità è che fa la differenza. Noi abbiamo prodotti di qualità e logicamente saranno costretti a usare il nostro prodotto secondo il mio punto di vista.